Dalla musica al teatro, dallo sport al vino. Difficile far rientrare in una precisa categoria Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore e opinionista, che lunedì sera, 6 marzo, si è raccontato al pubblico nell'auditorium Celestino Piva di Valdobbiadene. Che cosa racconta il suo romanzo I migliori di noi? Racconta un'amicizia, un'amicizia tra due cinquantenni che si ritrovano 25 anni dopo essersi lasciati. Sono cresciuti insieme, si sono laureati insieme, sono amici della vita, amici fraterni, sono fratelli. Poi qualcosa succede nella loro vita, si perdono, si smarriscono per addirittura 25 anni, uno rimane nella sua città, una città di provincia che è Arezzo, ma potrebbe essere qualsiasi altra città, l'altro va in giro per il mondo, torna 25 anni dopo, hanno 50 anni. Che succede quando il tuo migliore amico torna e non lo vedi da 25 anni? Riparte tutto come se nulla fosse o invece devi costruire tutto da capo? Nel libro I migliori di noi cerco di raccontarlo. L'amicizia, il legame col territorio, sono tutti temi quasi autobiografici? Sì, c'è un po' di autobiografia sicuramente nei migliori di noi, c'è Arezzo che è la mia città e che io conosco bene, ma era un po' inevitabile raccontare la mia città per avere uno sfondo, uno scenario che conoscessi molto bene. Ci sono alcune mie passioni, c'è la musica, ci sono certi dischi che amo, per esempio Pink Floyd di Animals e non solo di Animals, altri dischi che mi piacciono tanto, c'è qualche vino che io bevo, c'è una certa idea dell'amicizia, dell'amore, fatalmente quando scrivi un romanzo ti metti un po' a nudo e questo è capitato forse addirittura più che nel precedente in questo libro. Tra l'altro, tutte queste passioni, lei le conia nella sua professione che è il giornalismo? Ci provo, ci provo e credo che sia una grande fortuna scrivere delle cose che ti smuovono dentro e quindi quando scrivo di musica, quando scrivo di vino, quando scrivo di cani, quando scrivo di cinema, di sport, calcio, tennis, lo faccio spero con un po' di competenza, sicuramente con molta passione e nella speranza di dare notizia ai miei lettori, ma ancora di più di divertirli, di fargli compagnia. Quando io scrivo qualsiasi cosa, il mio primo obiettivo è quello di far passare qualche buon minuto, qualche buona ora a chi mi legge, perché se rubassi a voi il tempo che avete e che dedicate a me e ve lo rubassi male, sarei imperdonabile, se vi divertite leggendo, mi sono contento. Poi in tutto questo, tra le cose di cui parlo, c'è anche la politica, lì, devo dire, la passione è un po' meno, però lì c'è un dovere, credo che i giornalisti debbano dare notizie, debbano esporsi, debbano anche avere il coraggio qualche volta di essere antipatici e debbano spingere chi ti legge e chi ti ascolta ad avere una riflessione. E io ci provo.